Siamo nella Proloco della Val Tramontina, diciamo subito che è una Proloco formata, il direttivo formato da donne, hanno solo due uomini, mi pare che fanno da lavoranti, però è una Proloco che funziona veramente bene, è una delle Proloco che hanno più iniziative e poi Patrizia la Presidente ci spiegherà anche queste iniziative che loro fanno, perché ne fanno tantissime, non ultima quella di agosto che ho avuto il piacere di essere presente ed è stata veramente meravigliosa. Ma adesso parliamo di Settembre in Villa Portoni Aperti, parliamo della cucina che voi ci state presentando, io vedo qui quattro piatti veramente stupendi, ecco, mentre io li ammiro, tu spiega come li racconta. Esatto, tu sai benissimo che per noi della Proloco di Tramonti di Sotto le parole d'ordine sono passione, passione e cura nelle cose ed è quello che mettiamo in tutti i lavori che facciamo, siano essi interventi culturali, spettacoli, attività varie per il turista e la cucina è un nostro pezzo forte, diciamo, della Proloco. Quest'anno abbiamo dei piatti che già da alcuni anni presentiamo e qualche new entry, abbiamo il cervo con i mirtilli che era anche lo scorso anno appunto a Portoni Aperti e anche la proposta del Tris che propone appunto la pitina, il faloncio salato e il pistun che sono queste proposte gastronomiche molto tipiche della Val Tramontina, volevamo appunto metterle assieme così che il turista possa assaggiare con un piatto unico diversi sapori appunto della nostra valle. E invece le proposte nuove sono questi gnocchi con un sugo fatto da noi, è una nostra creazione, abbiamo provato a raccogliere quello che noi chiamiamo il vincucce e voi penso scrupit, il selene insomma, questa erba che cresce spontanea nei prati in primavera, l'abbiamo raccolto e trattato un po' come il pesto alla genovese, usandolo al posto del basilico e tritandolo con noci, olio d'oliva, grana e mettendolo appunto così a crudo come sugo e per renderlo più saporito abbiamo aggiunto il formaggio dal cit, questo formaggio tritato che è molto molto forte come sapore e del pepe macinato e come dessert per fare un passo all'indietro abbiamo voluto fare le frittelle con le mele, quindi è una pastella dolce e le mele vengono immersi nella pastella e fritte in olio bollente e servite con lo zucchero e la cannella, io penso che insomma ci si possa sbizzarrire abbastanza qui no? Io ti devo fare una domanda, allora io conosco bene il formaggio dal cit, conosco bene la pitina, ecco ma il pistum come viene, come viene fatto, come viene custodito e da dove nasce? Da dove nasce? Certo, guardate il pistum veramente che è un piatto che abbiamo riscoperto alcuni anni fa a tramonti di sotto, è veramente un piatto che nasce tantissimi anni fa, nasce nella notte dei tempi quando veramente la fame era purtroppo una caratteristica che accumunava le persone della nostra vallata, allora per non buttare via niente, perché i nostri avi erano bravissimi a riciclare, erano i nostri precursori, per non buttare via niente loro raccoglievano le rape per fare la brovada e le foglie, per non gettarle, venivano prese, raccolte dopo la prima brina, così che erano un po' più morbide, venivano lessate e messe poi diciamo così a maturare, a insaporire con del lardo, con il brout di polenta, cioè una polentina molto liquida, molto leggera e con vari aromi perché fossero un attimino forti, speziate e andavano servite proprio con la polenta e con il formai salat. Ecco questo è un piatto tipico della vallata? Tramonti di sotto, diciamo così, ovviamente poi le cose si disfondono, è giusto che sia così, ci mancherebbe altro, però è nato Tramonti di sotto, poi ovviamente tutta la vallatramontina l'ha utilizzato e il prodotto è normalissimo. Ma hai partito da lì? Sì, sì, da noi. Ecco questa era una curiosità che volevo sapere. Grazie, grazie Tino. Io cosa vi devo dire, continuate così, siete una forza per noi, per tutti e andiamo avanti perché siamo sulla strada buona. Certo, l'importante è essere insieme e collaborare. Grazie a tutti. Grazie, grazie.